Stai arrivando, abbiamo conosciuto ieri e abbiamo conosciuto l'altro, sappiamo che le persone e quanto ci andate, vivere, vivere, mantiverò, 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 e abbiamo conosciuto anche un momento, appunto per tutti e grazie. Grazie a tutti. 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 I gumi di vicino al corpo. Grazie a tutti. I gumi di vicino al corpo. 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 Grazie a tutti. I gumi di vicino al corpo. 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 Oltre che il corpo. I gumi di vicino al corpo. I gumi di vicino al corpo. I gumi di vicino al corpo. e gumi di vicino al corpo. I 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 gumi di vicino al corpo. gumi di vicino al corpo. I 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 gumi di vicino al corpo. a 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 Namasté.